Caro Michele, Angelica mi ha detto che non verrai per le vacanze di Pasqua. Pazienza. Ormai le volte che ho detto pazienza, pensando a te, sono infinite. È vero che più passano gli anni e più si accrescono le risorse della nostra pazienza. Sono le sole nostre risorse che si accrescono. Tutte le altre tendono a prosciugarsi. Avevo messo in ordine le due stanze all'ultimo piano. Avevo preparato i letti, appeso gli asciugamani nel bagno. Il bagno all'ultimo piano è il più bello della casa, con le maioliche a rabischi verdi. E nel guardarlo ero contenta che lo vedesse tua moglie. Le stanze sono ancora là, in perfetto ordine, con i letti pronti. Io non ci sono più entrata. Dirò a Cloti di tornare a disfara i letti, domani. Mentre preparavo quelle due stanze, pensavo che tua moglie si sarebbe sentita a suo agio e anche pensavo che avrebbe trovato che io tengo bene la casa. Erano però due pensieri stupidi. Perché io non conosco tua moglie? Non so quando e dove si senti a suo agio e non so se è di quelli a cui piacciono le case tenute in ordine e le persone che tengono in ordine le case. Angelica mi ha detto che invece te ne vai a Bruges. Io non mi chiedo cosa vai a fare a Bruges perché ormai ho smesso di chiedermi cosa vai a fare in un luogo o nell'altro. Io cerco di immaginarmi in un luogo o nell'altro la tua vita. Però nello stesso tempo sento che la tua vita è diversa da come la immagino. E così la mia fantasia è sempre più sfiduciata e fiacca nell'intrecciare i suoi arabeschi sopra di te. Quando starò meglio di salute vorrei venire a trovarti con Angelica se questo ti fa piacere. Non verremo a stare a casa vostra perché non voglio dare fastidio a tua moglie che penso abbia sempre molto da fare. Andremo in albergo. Io non amo i viaggi e non amo nemmeno gli alberghi. Però preferisco ancora gli alberghi alla sensazione di dare fastidio occupando uno spazio in una casa piccola perché una delle pochissime cose che so di voi è che avete una casa piccola. Non posso partire adesso perché non sono ancora guarita bene da quella pleurite cioè non ho più la pleurite ma il medico dice che devo ancora usarmi dai riguardi. Ha anche trovato che ho il cuore in disordine. Tu spiega a tua moglie che io sono una che ha la casa in ordine e il cuore in disordine. Spiegale come sono perché così quando mi vedrà potrà confrontare la mia vera immagine con le tue descrizioni. E' uno dei rari piaceri che ci offre la vita confrontare le descrizioni degli altri con le nostre fantasie e poi con la realtà. A tua moglie io penso spesso cerco di immaginarla anche se tu non ti sei curato di descriverla e quella fotografia di lei che mi hai mandato quando hai scritto che ti sposavi è piccola e confusa. La guardo spesso ma non riesco a vedere niente salvo un lungo impermeabile nero e una testa avvolta in un fular. A me non scrivi mai ma sono contenta che scrivi ad Angelica. Penso che ti viene più naturale di scrivere a lei perché con lei hai più confidenza che con me. Forse sono ottimista ma penso che rivolgendoti a lei ti rivolgi segretamente anche un po' a me. Angelica è molto intelligente e io credo che sia la più intelligente di tutti voi benché giudicare dell'intelligenza dei propri figli sia una cosa assai difficile. In qualche momento ho la sensazione che non sia felice ma Angelica è molto chiusa con me credo che sia chiusa con me non per debolezza d'affetto ma per il desiderio di evitarmi preoccupazioni. L'altro giorno mi sono ricordata di una volta che sei venuto qui e appena venuto ti sei messo a frugare in tutti gli armadi alla ricerca di un tappeto sardo che volevi appendere al muro nel tuo scantinato. Doveva essere l'ultima volta che ti ho visto. Io ero in questa casa da pochi giorni era novembre gironzolavi nelle stanze e frugavi in tutti gli armadi che erano appena stati messi a posto e io ti andavo dietro lamentandomi perché portavi sempre via i miei oggetti quel tappeto sardo devi averlo poi trovato e preso perché qui non c'è non c'è nemmeno nello scantinato a me comunque quel tappeto non mi interessava poi tanto e non me ne importava niente neanche allora lo ricordo perché è forse legato all'ultima volta che io ti ho visto ricordo che provavo nell'arrabbiarmi e nel protestare con te una grande allegria sapevo che le mie proteste avrebbero suscitato in te allegria e noia mescolate penso ora che quello era un giorno felice ma purtroppo è raro riconoscere i momenti felici mentre li stiamo vivendo noi li riconosciamo di solito solo a distanza di tempo la felicità era per me protestare e per te frugare nei miei armadi ma devo anche dire che abbiamo perduto quel giorno un tempo prezioso avremmo potuto metterci seduti e interrogarci vicendevolmente su cose essenziali saremmo stati probabilmente meno felici anzi saremmo stati forse infelicissimi però io adesso mi ricorderei di quel giorno non come un vago giorno felice ma come un giorno veritiero è essenziale per me e per te destinato ad illuminare la tua e la mia persona che sempre si sono scambiate parole di natura deteriore non mai parole chiare e necessarie ma invece parole grigie buonarie fluttuanti e inutili ti abbraccio tua madre